Ciao ragazzi da Vittorio, c'è rammarico per questo pareggio portato a casa dalla Lazio a Marsiglia, c'è rammarico per come è arrivato, perché la Lazio sembrava in controllo avanti 2-1 e poi invece ha perso quella posizione di vantaggio. Grazie a tutti. La Lazio-Marsiglia, anzi Marsiglia-Lazio, pareggio che lascia un po' la mare in bocca, perché la Lazio sembrava a un certo punto in controllo del match. Se nel primo tempo Marsiglia ha giocato meglio e ha meritato il vantaggio, nel secondo tempo, soprattutto dopo il secondo gol, la Lazio sembrava in controllo. Sembrava non solo poter controllare la partita, ma poter trovare anche il gol decisivo del 3-1. Felipe Anderson si era acceso, Ciro Immobile stava giocando col coltello fra i denti, il centrocampo della Lazio in generale aveva preso controllo. Mentre quello del Massiglia era sceso di intensità, si era un po' smarrito, quello della Lazio sembrava fosse salito di intensità e preso il controllo del centrocampo. E così la Lazio non solo aveva sofferto pochissimo, ma invece aveva creato azioni per il possibile 3-1 che avrebbe chiuso la partita. Lì, secondo me, c'è stata la svolta. Maurizio Sarri ha tolto Luis Alberto, Leiva e Felipe Anderson e lì è cambiata in negativo la partita della Lazio. Lucas Leiva non stava giocando male, soprattutto in fase difensiva aveva garantito un'ottima copertura ai difensori. Soprattutto nel primo tempo, quando la Lazio stava soffrendo, Leiva era stato veramente fondamentale in un paio di interventi. Luis Alberto stava soffrendo sicuramente il pressing dell'Olympique Marseille, ma nella ripresa ha trovato il suo spazio ed era sempre più il playmaker di questa squadra, stava facendo girare il pallone molto bene. Ha lanciato Ciro e Mobile, ha fatto un paio di passaggi a Felipe Anderson, eccetera. Stesso discorso per Felipe Anderson. Vi avevo detto come dopo il gol Felipe Anderson sembrava essere tornato a quello dei momenti d'oro, mentre dall'altra parte Pedro sembrava un po' in difficoltà. Questi tre cambi hanno condizionato in negativo la partita, perché sono usciti Luis Alberto e Felipe Anderson, che forse insieme a Ciro e Mobile erano i giocatori migliori della Lazio, ma soprattutto perché quelli che sono entrati non sono entrati con la determinazione giusta. ACPA Pro ha sbagliato tantissimi palloni da quando è entrato, ha tolto sicurezza al centrocampo, Minico I Savic ha fatto troppo giocogliere, ha perso troppe palle in ripartenza, in area di rigore non è stato decisivo come al solito e questo secondo me ha dato fiducia al Marsiglia e tolto sicurezza alla Lazio. In più bisogna dire che con l'uscita di Felipe Anderson e l'ingresso di Raul Moro la Lazio ha perso peso. Raul Moro, sapete, è un giocatore che ha preso tantissimo, ma in una partita così che si incattivisce nei minuti finali l'ingresso di Raul Moro non è stato un'idea fantastica, perché è un ragazzino e lo sappiamo che non è proprio fisicamente fortissimo. È anche vero che, ne bisogna essere onesti, che al momento la Lazio non ha alternative a Raul Moro là davanti. Zaccagni è sempre infortunato, Romero addirittura ha 16 anni, se devi mettere un'ala o metti Raul Moro o non metti nessuno. Per cui Raul Moro è un po' una scelta che denota un po' i limiti di questo organico. È vero, nessuno poteva pensare che Zaccagni non avrebbe mai giocato, visto che prima di arrivare alla Lazio non si era mai fatto male. Però adesso ti trovi in questa situazione. Però secondo me dove la Lazio ha perso la partita è soprattutto con l'uscita di Luis Alberto. Luis Alberto, magari senza giocare in modo fantastico, sta facendo girare la palla. Akpa Pro invece non ci è riuscito. Cataldi si è trovato in inferiorità numerica perché sia Akpa che Milinkovic perdevano troppi palloni e la Lazio, che era padrone del centrocampo, si è ritrovata ad essere in inferiorità numerica al centrocampo e perdere il controllo della partita. Mi aspettavo decisamente di più da Milinkovic-Savic, che non è entrato con la testa giusta. Mi aspettavo però anche qualcosa di più da Akpa Pro, che non è entrato bene, è entrato male. Problemi di panchina? Forse, nel senso che servirebbe più qualità alla Lazio dalla panchina. Però non sei il Paris Saint Germain. Devi riuscire a portare a casa la partita anche con questi cambi. Ovvio che Sarri ha fatto questi cambi non pensando esclusivamente alla partita di oggi, ma in generale al futuro, al campionato e al proseguito della stagione. Non si possono spremere i giocatori per questa partita, bisogna pensare a lungo termine, però secondo me questi cambi hanno condizionato a negativo questa partita. Uno dei motivi per cui la Lazio oggi non ha vinto è perché i cambi hanno condizionato malamente, in negativo, la Lazio. E io onestamente non me l'aspettavo da Milinkovic-Savic, ma anche da Akpa Pro, che magari non ha il talento di Luis Alberto, ma di solito è uno che è in campo dal fritto, che si impegna, vedi che dà tutto. Ieri sera ho avuto l'impressione che non fosse proprio lucidissimo, da questo punto di vista, Akpa Pro. Al prossimo episodio